Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, torna la rubrica Le dimensioni contano, ovvero la rubrica che si occupa di monster movie, del cinema, dei mostri, dei mostri giganti perché le grandezze, le dimensioni appunto mastodontiche rimandano al sublime cantiano e il sublime attrae. Noi siamo attratti dalle cose gigantesche, mostruose, meravigliose, appunto sublime. Ed in questi giorni è uscito al cinema il nuovo capitolo Godzilla Kong, il nuovo impero e sono andato a vederlo con i miei figli e torna per l'occasione dunque Dedalo. Torna Dedalo. Ciao a tutti. Torna Dedalo per aiutarvi a fare questa recensione, sul canale trovate già vecchie recensioni realizzate con mio figlio Dedalo che vedrete dunque è più piccolino perché sono un paio di anni effettivamente che non facciamo recensioni di film dei mostri insieme, se gli piacciono scriveteci sotto sotto che ve ne faremo anche nelle prossime, nelle prossime settimane. Che cos'hai qui con noi innanzitutto? Abbiamo un modellino di Kong. Facciamolo vedere bene, ecco qua il modellino di Kong, un Kong furente. Passami anche la scatola perché io sono un vero nerd, tiene il mostro, sono un collezionista all'interno. Sentite questo rumore, ci sono tante cose, in modo particolare ci sono insetti ma io voglio far vedere il fatto che c'è anche un altro volto di Kong, un Kong un po' meno arrabbiato. Poi ci sono i pugni, gli insetti e lo mettiamo insieme a tutti gli altri mostri che tuo papà colleziona. Allora cominciamo con il dire una cosa, poi lascio la parola a mio figlio che vi darà il suo punto di vista. Wingard, il regista, finalmente facendo dopo tanti film su Godzilla e Kong, mediocri, mediocri, secondo me questo è un bel film, ma perché è un bel film? Perché al centro ci sono i mostri, il regista ha tagliato drasticamente le parti in cui gli umani provano a dialogare, a dare un senso filosofico, metafisico, storico, politico alla vicenda e i mostri invece sono al centro di grandi battagli e anche di relazioni affettive, ma i mostri senza quei dialoghi imbarazzanti che di solito caratterizzavano i precedenti monster movie. Dunque il regista fa cento, ci sono alcune chicche da Godzilla che dorme all'interno del Colosseo, alla battaglia finale sulle spiagge di Rio de Janeiro, ci sono veramente delle sequenze bellissime, ma la grande novità è che i dialoghi sono pochi, sono anche abbastanza divertenti, perché ci sono dei dialoghi con battute che a volte non stonno, sembrano proprio messe lì a casaccio, questa volta invece le battute tra i personaggi reggono, o comunque sono meno imbarazzanti del solito, le battaglie dopo ce li abbiamo sono spettacolari e le parti narrative umane, emozionali umane, veramente marginali e tutta la scena è dei mostri, in modo particolare chi è il protagonista? King Kong. Perché è King Kong? Perché se fosse stato Godzilla il film sarebbe durato molto presto, perché Godzilla cominciamo a dire che comunque è il mostro, il caju più potente di tutti, dunque la forza che ha Godzilla è tale per cui quando la scatena ovviamente non ce l'è per nessuno, dunque gli sceneggiatori e i registri devono sempre trovare il modo per far sì che per queste due ore di film Godzilla a un certo punto o sia ai bargeri o sia addormentato, ghiacciato, o che sia appunto lontano o che ha per un momento qualche inibizione o che c'è un avversario che possa ingannarmi, quando scatena la sua forza chiaramente Godzilla è imbattibile, però questa volta c'è molto di più perché c'è una nuova idea, c'è una nuova terra, qual è Daddy? C'è King Kong in questa terra che si chiama la Terra Cava e un giorno, visto che si sentiva solo, è andato in esplorazione e trova questa terra che l'uomo non ha mai esplorato. Perché gli umani entrono in questa terra, la Terra Cava hanno messo Kong perché non può stare vicino a Godzilla, dunque nella Terra Cava c'è Kong e in superficie c'è Godzilla e incontra chi Kong? Incontra Soku. Soku, una novità. Che è il figlio di Scar King che all'inizio stava combattendo contro King Kong, però poi si unisce con King Kong contro Scar King. Scar King chi è? Scar King è il capo del regno nuovo dei Kong. Di tutte le scimmie, una scena clamorosa. King Kong con questo piccolo Kong giunge in un regno infuocato come fosse il centro della Terra, io impazzisco ogni volta centinaia di Kong dominati con cattiveria, malvagità da un tiranno che appunto Scar King, questa scimmia rossa, nuova, nuova, che combatterà con Kong fino alla fine. Se non vogliamo dirvi come finire alla fine, chiaramente è chiaro, sapete chi sono i buoni, perché anche qua tra i morti ci sono i buoni e i cattivi. Dunque la novità è questo regno nel centro della Terra con scimmie, scimmie schiavizzate da Scar King. Ma Scar King conta sulla forza di chi? Su un mostro di ghiaccio, appunto, per farlo sfidare contro King Kong, ma non saprà che arriverà anche Godzilla. Dunque questo mostro che di sotto è un rettile, è come se fosse un Godzilla, solo che anziché mandare energia, fuoco, energia atomica, poi a Godzilla recuperano della tradizione post-Hiroshima e Nagasaki lancia ghiaccio e Scar King controlla con un pezzo di ghiaccio proprio questa bestia. Ed è uno scontro tra titani, verrà ovviamente sulla Terra, perché c'è chiaramente un passaggio che collega la Terra, la nostra in superficie, con il centro della Terra. La tua sequenza preferita? È quando Kong serviva aiuto e dunque vado a Godzilla a chiedere se poteva aiutare. E dove combattono? In un posto che ha invece tanto? Vado a combattere in Egitto e nelle piramidi a Giza. E vengono le piramidi? Distrutte. Mi distrutte. Allora, Kong va a chiedere aiuto a Godzilla, vuole portare Godzilla al centro della Terra per liberare gli altri Kong e per far ciò lo va a provocare. C'è una battaglia. E li lancio Modra. E arriva, giusto! Bravo a dirlo. Chi c'è nel film? Modra. Modra. Viene recuperato un mostro, il mostro volatile, farfalloso, con tutte le sue energie che chiaramente aiuta i buoni, i buoni alla fine a vincere. Ma questo non è tanto uno spoiler che i buoni dico. Dunque, la tua scena preferita è quella quando cammina lungo il Tevere con Godzilla? No. No? È quella dove King Kong va a aiutare, cioè chiede aiuto a Godzilla. Quando chiede aiuto a Godzilla, ma non ti piace quando Godzilla cammina lungo il Tevere e poi va a dormire? È molto divertente anche quella scena. Dunque, noi vi consigliamo. Che voto dai tu? 9 su 10. 9 su 10. Beh, lui ci sta, eh. È la gioventù che porta ad essere un po' abbondante nei voti. Io do 7 su 10 e, infine, tra gli ultimi siamo fatti su Godzilla e Kong, più bello, proprio perché è meno presuntuoso, ha meno pretese. Non vuole costruire chissà quale dimensione mitica, mitologica, filosofica, ma ci dà la cosa che noi vogliamo. Abbiamo tanti battaglie, tanti, tanti cazzotti. Ovviamente poi c'è sempre il tema della bella bestia, però chi è che va a aiutare Kong? Eh... La bambina. Ah, sì, la bambina. Ed è la bambina, no? Quando tocca Kong è effettivamente molto, è molto, è molto, è molto poetica il tema della bella bestia. Cosa vuoi ancora dirci sul finale? Volevo dire che la storia dei umani va avanti da molti film, dunque in questa non potevano aggiungere tanto, dunque non ci sono tanti dialoghi di umani. Giusto, perché questo è l'ennesimo capitolo. Chissà se il finale nel cinema devono mai dire mai. E comunque, vi dico, è il trentesimo film con protagonista Godzilla. Dunque sono già trenti film a partire appunto dai anni cinquanta con protagonista Godzilla. Il tuo mostro preferito? Godzilla. Il nostro preferito è King Kong. Beh, c'è un mostro in nostro preferito per me, è lo squalo di Spill. Però ha tolto lo squalo, che è un po' come Platone, colui che sta fuori dai giochi. Lui è un gozzigliano. Io sono un King Kongiano e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao!